ciao a tutti ragazzi e benvenuti su lele king tv soltanto lele king di voi fa fare un salto così nel passato nella stagione 2011 2012 con le figurine della champions league di panini ragazzi perché queste qui si sono le figurine panini a panini faceva l'album della champions league poi ha perso i diritti adesso fa fifa 365 e quello della champions la fa la tops allora questo è l'album del cinquantesimo anniversario come vedete c'è anche qui il bollino un album molto importante queste sono le bustine ne abbiamo cinque e poi faremo il cielo ma anche mi manca nel prossimo video di questa raccolta apriamo vediamo cosa esce fuori c'è lo scudetto del real madrid poi c'è samir nasdri nasdri del celsi orbaiz giocatore olimpiagos robigno del milan ragazzi sotto commentate la vostra figurina preferita di questo spacchettamento bruno saltor del valencia andiamo con il secondo pacchetto vediamo cosa c'è fuori troviamo la figurina speciale del cinquantesimo anniversario meriless del celsi di melo dell'ill questo dovrebbe essere l'ill charl albides della poel e safara terzo pacchetto picchè del barcellona lov nagatomo dell'inter lopez angel lopez del villareal e bucarov dello zenith quarto pacchetto e abbiamo ne incunca è quasi impronunciabile questo cognome vabbè spero di averlo pronunciato bene navaianga sov pulc qui giocava nel porto ecco qui ulc e danni o danni giocatore portoghese che qui giocava nello zenith poi abbiamo arthur portiere brasiliano ex anche roma che qui gioca nel benfica adrian calello della dinamo zagabria franco costanzo dell'olimpiagos cristian rodriguez del porto e questo è giracec ragazzi per questo spacchettamento è tutto ci vediamo nel prossimo video che ci sarà il cielo mi manca di questa raccolta ciao a tutti e